Salve amici, fratelli della congrega, come state? A posto? Allora, ok, tutti stanno guardando, io l'ho già visto due volte, forse tre, non c'è due senza tre, poi lo riguarderò in Blu-ray, in streaming, nei passaggi televisivi, ok, tutti si stanno lanciando in discussioni molto accese riguardo Joker di Todd Phillips. Ok, mentre Matioski, allora, questo caro Matioski, a volte, non sempre, a volte non sempre, perché spesso hai questa posa un po' antipatica e ti poni con troppa arroganza. Non sono un arrogante! Oh, ecco, quindi, non voglio offenderti, non voglio che tu te la prenda, perché sei un ragazzo uomo, con tanto di barbetta, più colta della mia, più colta della mia. Quasi argentata, ecco, con questi peli fascinosamente bianchi, che ti incorniciano il volto, però, negli ultimi giorni, sebbene, ripeto, ti segua, anche assai volentieri, perché, senza ombra di dubbio, sei una persona, un critico, anche forse cinematografico, perché no? Estremamente interessante, possiedi la tua notevole cultura, e quindi io non voglio contestarti, voglio semplicemente indurti a riflettere. Perché, ecco, hai realizzato, soprattutto Joker Matioski Show, ecco, due o tre video, sinceramente, imbarazzati, che potrebbero pregiudicare la tua carriera, da critico cinematografico, sul web, da youtuber, diciamo che si lancia in esegesi, ripeto, spesso assai piacevoli, stimolanti, brillanti. Però, gli ultimi due o tre video, devo, a malincuore, rivelarti, che non soltanto non mi sono piaciuti, bensì, hai sparato a zero, con troppa presunzione e, per l'appunto, arroganza. Poiché, liberatoti, liberatoti, da ogni freno inibitorio, hai definito Scorsese un rimbambito, soltanto perché il grande zio Marti ebbe l'ardire di definire i cinecomic cinema, con cui Marti ha poco a che spartire e l'hai attaccato definendolo rimbambito. Guarda che anche tu, no, definendolo rimbambito è vecchio. Matioski, adesso, tu sei un bel uomo, di gentile, raffinato aspetto, però non è che anche tu sia giovanissimo, detta come va detta, insomma, non è 15 anni, no? Ecco, ma soprattutto su Joker le sparassi molto grosse. Attenzione, Matioski, ti do un consiglio. Prima di lanciarsi in queste recensioni, la sera, Matioski, la sera prima di realizzare questi video, non bisognerebbe andare nei locali e bere come Bukowski, il prosecco. perché lei quella sera deve aver bevuto parecchio? Eh, sì, sì, sì. E non è riuscito a comprendere diciamo tutte le stratificazioni di questo film straordinario di Todd Phillips, stratificazione a mo' di Matrioska, perché è colmo di contenuti e da quel contenuto n'esce un altro, è un film, diciamo, incontenibile, ma invece io mi conterrò nel criticarla moderatamente senza, ripeto, non se la prenda, signor Matioski, senza offenderla in maniera inusitata e scritta retamente, anche se lei stavolta, Matioski, ha un po' esagerato, ha un po' esagerato e mi ha fatto veramente molto arrabbiare. Lei quella sera, Matioski, doveva vedersi un film con Valerica Prischi, perché del film che hai capito di questo film se la sera prima il vinello ti sei scolato e poi quando uno diventa un po' ubriaco anche, di supponenza, si lancia in queste disamine assai stordenti ed ebbre di troppa boria nel criticare non soltanto il lebroso Arthur Fleck, bensì il cinema maestoso di Scorsese e Marti. Quella sera Matioski lei, anziché bere il vino, doveva bersi soltanto un Martini che spesso, anzi quasi sempre, è analcolico. Altrimenti poi rimedia queste figuracce un po'. Diciamo così. E quindi per questi suoi ultimi due o tre video lei non merita il mio incomio. Sicuramente non è da manicomio, Matioski. Lei è un uomo di si fatta cultura egregio distinto distinto ecco questi sono stati invece video distinto di apostrofe distinto troppo istintivi. Lei, signor Matioski non si è contenuto si è lasciato andare a delle affermazioni che potrebbero ripeto non poco compromettere il suo futuro di critico e io qui la critico io qui la critico sia chiaro non vuole essere un attacco bensì un un confronto perché i suoi ultimi due o tre video soprattutto quelli sul Joker sono un vile affronto sono un vile affronto ok io non vorrei neppure sindacare su questa ragazza nel video video ehm Matrioski no Matrioski no lei è una Matrioski no no Matioski show dove dice che Dance in the Dark si riferisce a quello giusto? a quello si riferisce ma non lo so di Lars von Trier è un film che nessuno rivedrebbe ma questa ragazza è molto rivedibile però eh ora io non adoro particolarmente Lars von Trier ho le mie riserve la casa di Jack l'ultimo suo film è un film contestabile molto affascinante però secondo me non è un capolavoro comunque questa ragazza che indubbiamente è un po' ruffiana nei confronti di Matrioski non c'è niente di male insomma sicuramente c'è un'attrazione fra loro due ecco questa ragazza non rivedrebbe mai Dance in the Dark ma ora voglio leggervi un pezzo in cui cito il grande Bruce Springsteen no no autore della bellissima cazzone con tanto di video di Brian De Palma Dancing in the Dark non Dancer in the Dark Dancing in the Dark cioè ballando al buio eh ballando al buio con Matrioski vero bella poi non sarai più cieca nei confronti dei film come la cantante Björg appunto del film di Von Trier ma rivedrai la luce e la vita sotto altri occhi no allora adesso voglio leggervi un grande pezzo un grande pezzo forse un grande pazzo voglio leggere me stessa Joker i migliori pazzi della storia del cinema da Jack Nicholson a Gary Oldman ma al principe Jolly di corte rimango io ah ah eh certo eh certo io sono imbattibile in fatto di follia in mezzo alla folla mi distingo io coniai anni fa anni fa il detto il folle incita la folla è quello che fa Joker quando tutti stanno zitti di fronte alle ingiustizie alle discriminazioni ecco che l'uomo forse populista forse anche un po' fancazzista però non del tutto nichilista ma romantico un uomo dalle idee apri pista vabbè andiamo avanti sì le somiglianze fra la storia di Arthur Fleck la mia vita sono veramente inquietante eh sì vedete lui come me sognò di essere il figlio prediletto di Bob De Niro perciò bando agli smascherati banditi e alle ciance di chi non sa più come blandire devo togliervi il mascara il mascara e ammettere un po' a malincuore ma anche con gagliardezza indomita che Arthur Fleck sono io sì da piccolo fui fanatico della serie televisiva che di tardive repliche italiane andò per la maggiore vado a dire Happy Days spaccato della provincia spaccato della provincia statunitense degli anni 50 ritratto generazionale forse troppo buonista ma niente affatto sensazionalista che rima baciata illuminato dalla presenza immensamente ipnotica di un titanico Harry Winkler alias Arthur non Fleck Fonzarelli detto più comunemente Fozzi è uno che lecca tutte le patatine con tanto di formaggio Fozzi un uomo un genius un uomo forse ignorante come Adriano Celentano ma capace col solo potere del suo indubitabile immenso carisma di essere l'unico meccanico in grado di il meccanico sauliare in grado di dare consigli di vita a collegiali probabilmente più istruiti di lui hanno fatto il ginasio il classico e la forma mendes che è migliore però la forma di qualcos'altro più istruiti di lui anche però più conigli lui da consigli ai conigli e forse si fotte tutte le conigliette Sifonzi era uno zotico mai visto che viveva praticamente giorni e notte nella sua officina torniamo l'officina che c'entra Bukowski non è la Bukowski no è Matioschi l'autore del libro Post Office andiamo avanti con le strozzate un uomo però imbattibile infatti di fascino a pelle infatti indossava sempre il giubottino nerissimo assumendo un sex appeal invincibile da Bruce da Bruce Willis si Bruce Willis è Die Hard è duro duro a morire sempre duro basta adesso da Bruce Prince del videoclip di I'm on fire I'm on fire in quel video Bruce si incazza no si incazza in senso metaforico in senso che proprio si arrapa come Denzel Washington di Melon Fire e diventa un nerone basta un uomo che non deve chiedere mai neanche il mais no 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 neanche il mais perché ce l'ha l'olio di di ricino o di semi di arachidi care scimmie fra l'altro in questa epocale clip Bruce si scalda più del pornatore omonimo Bruce Venture Bruce Venture ha tutte le sventole e lui il protagonista del film come dura l'avventura basta appena la milfona gli mostra le sue gambone le sue gambe scusate scusate e lui sporco e grezzo col viso impregnato di sudore freddo ma soprattutto macchiato d'olio ancora bollente solamente sbirciando di sottecchi e forse anche la sottana le magnifiche cose di questa patatona caliente e torniamo a Fonsi Fonsis della quale non scorgiamo neppure il volto parte in quinta con far ardente sognando di sgranocchiarsela con lingua fra i suoi denti e labbra aperte basta adesso andiamo andiamo di dietro ma non so che vuole signora accende il motore e si vuole a notturno verso l'abitazione della bellissima donnona si brusse non solo canta la sua canzone bensì col cuore a radiatore questa è una licenza poetica le piace il cuore a radiatore già pensando a lei sul riscaldato nel suo cuore appunto mette su Gianni Morandi parlami di te bella signora del tuo mare nero nella notte scura signora solitudine infatti bruce potrebbe chiavarsela alla fine arriva lì e dice ma chi me la fa fare ma questa è ricca io sono un meccanico lascia solo le chiavi ma che chiavi che chiavi tu non chiavi niente come dicono in meridione sei un cavicchione eh sì sì sei proprio un babbagione sapete no che il celeberimo monologo allo specchio di Bob De Niro che il celeberimo monologo di Bob De Niro Travis Beagle di Taxi Driver you talking to me you talking to me fu involontariamente ispirato improvvisato di Niro stesso memore d'aver visto non meme memore un concerto del boss pochi giorni prima del ciac si gira ciac si gira donna si giri e io glielo rigiro basta adesso si può essere che la bion del video I'm on fire sia in verità niente po' po' di niente po' po' di meno che 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 Sibyl Sibyl Shepard Betsy come no come è fatta a dire che non è lei qualcuno l'ha vista per l'appunto in volto che che ne sai che ne sai potrebbe anche essere Vladimir Luxure oppure Jodie Foster cresciuta e platinata ma potrebbe essere perfino Maurizio Umberto di Gidio Cruzi detto platinette prima che ingrassasse il pezzo va avanti nel mio sito Virginia Raffaele Belen Rodriguez ma Virginia Raffaele e Vir Virgin e Belen detto no no ma ve lo leggo dai ve lo leggo questo pezzo no no sì comunque ecco comunque no allora sì comunque chiunque si fosse stato aveva dei quadricipiti da scosciante showgirl televisiva rapante diciamocelo una faccia di far impazzire quell'angelo di Ron Howard ma anche quel nerd di Kate Gordon di Christine del Carpenter entrambi infatti fanno di cognome Cunningham l'avevate notato? Ron Howard dopo essere stato il figlio modello dell'America un po' falsa dolciastra e puritana girò fuoco assassino mentre Kate Gordon anche lui diventato regista come Howard alla pari di Ron non però l'omonimo cantante Ron indubbiamente dell'altra sponda sogniò di scopare Jennifer Connelly del suo film Walking Dead no 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 Walking Dead Kate nonostante impeccabilmente la diresse la spogliò in una scena particolarmente hot non se l'incroppò mentre Billy Crudup se la trombò sia per finzione nel film che nella vita reale come no se la trombò mica questi tromboni insomma ragazzi a che serve a Beautiful Mind se poi le donne ti prendono solo per pazzo e per un così bravo ragazzo studia sempre però che stringi stringi non si arriva a niente desidera invece desidera in vero solo guts ciò Fonzi già lo capì così che mentre gli altri studiavano per farsi il culo senza mai arrivare a quella lui bastava alzare il pollice su per arrivare a alzarle a tutte e tutte arrivavano sì sì così se non è un genio il Fonzi scusate ora detto questo passiamo a fighe no classifiche serie non perdiamoci in puttanate a mio avviso i migliori pezzi della storia i pazzi della storia sono Jack Nichols di qualcuno valore sul leader cuculo 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 e Gary Holman di Dracula Dracula adesso vi spiego perché un attimo un attimo che cos'è tutta questa fretta un attimo relax pazientate uomini di panza pazientate lasciatemi riflettere ecco avete presente il detto non fare l'indiano bene deriva dall'indiano proprio del capolavoro di Miosform indiano quello che sta sempre il capo che cap che cap sì lui è apparentemente muto in realtà sa parlare benissimo contando di Grammlo e di Canemur ma si apre soltanto a Jack eh sì poiché Jack è l'unico normale una società di idioti infatti lo lobotonizzano sì lo lobotonizzano poiché è un personaggio scomodo la gente vuole continuare a ridere dinanzi appunto a Virginia Raffaele che imita una più brutta di lei è più brutta guardate Belen è più brutta di Virginia Virginia è buona forte Belen un po' troppo magrolino però appunto è ritenuta più buona dagli uomini medi ovvero Belen ah c'è Belen 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 Rodrigues ma tu si che vale ma che vale non vale un gazz sì vi sarò sincero Belen a me fa schifo ecco Virginia invece sì sì nonostante non sia Virginia la sposerei subito eh sì sì innanzitutto è molto più gnocca di Belen eh sì sì più gnocca sì sì e poi ti prepara degli gnocchi di patate sa anche cucinare e poi brillante intelligente trasformista insomma non è solo una pezza no pezzo di carne infatti non capisco molti uomini e ragazzi che ve ne fate di uno come Belen tanto vale andare a zocco direttamente sì è sex ma una volta che vi hai fatto sex uno così la portereste mai a vedere Joker basta insomma Belen è la donna più inutile di tutto il tempo voi siete soltanto dei poveri coglioni dite a me sono un coglione ma che sapete voi della mia vita babagioni tutti questi libri che ho letto voi non avete letto niente voi pensate sempre al letto che poi scherzo che va bene va detto va detto va detto idolatrate una come una sciacquetta che con le sue curve mozzafietto vi fa perdere la testa ma secondo me la testa non l'avete proprio non l'aveste ma che avete ma che avete siete avari vabbè qui non ha funzionato il gioco di parole vabbè non l'avete proprio dalla nascita andavate subito mozzati sì sì ma dato che non avvenne ma che viene non viene niente vi manda lo stesso a morire ammazzati anzi vi piglia ammazzati siete cioè per l'appunto delle teste da minchie di mio sono romantico come Gary Holman di Dracula infatti dopo tanta mia senilità questo lo dite voi quello è vecchio ma che vecchio io sono più giovane di tutti io avrò sia l'anagrafe o la mia età ma io vago vago nel tempo nel tempo sì 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 un giorno quando morirò eleveranno il mio onore dei templi i tempi 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 dopo tanta mia senilità dopo essere spaventosamente ringiovanito scopo ma che scopo scopo niente scopo scopo purtroppo che la mia winona winona torniamo al vino winona di Matryoshky di Matryoshky di Bukowski non riesce a prendersi non ne prende uno quella lì no prima prendeva Johnny Depp adesso è un po' imbruttito non riesce a riprendersi della morte di Sean Austin non fatemi la fine dell'Hobbit di Stranger Things ho detto tutto insomma la mia vita è una tragedia insomma se la riguardiamo proprio obiettivamente qua non c'è stata adolescenza non c'è stato impanzo non c'è stato niente la mia vita è una tragedia ma rispetto alla vostra è un capo d'opera mettetelo bene mettetevela bene carmelo bene undag ora Matryoshky si scherza naturalmente si scherza io sono come c'è con queste looking point no si scherza ma l'hai sparata grosse negli ultimi due o tre video quindi ti induco a riflettere mi dai ragione per quello che ho detto ehi